ecco qua care amiche ed amici l'ultimo video mio l'ho girato con questo cellulare le leggi kp 215 nome completo lg kp 215 a come si può vedere la camera che filma in 177 x 144 ea fotografie di 640 x 480 però un audio che è una merda questo è stato il mio cellul primo cellulare intelligente molto bello purtroppo si è rotto la pressa micro usb e quindi è difficile ricaricarlo per quello mia madre nel 2013 a gennaio per il compleanno mi ha regalato il samsung galaxy young 53 60 e io poi per natale di quello stesso anno gli ho regalato questo cellulare il nokia asha 302 adesso questo tutto ho fatto un tutorial su questo cellulare vi lascio ciao